Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Trampolini da esterno 6Bros, 6UMP 430 metri trampolino per il giardino blu esaminato da Intertech GS. 6Bros 6UMP 4 30 metri trampolino per il giardino blu esaminato da Intertech GS Rete di sicurezza aste della rete lunghe CST 430 lire 1760 33 rete di sicurezza compresa aste della rete lunghe esaminato da Intertech GS telaio con tubi in acciaio non saldati. Zincati di alta qualità a diametro 38 mm. Spessore 1,35 mm nessun rischio di rottura dei tubi protezione ai bordi in spugna ad alta densità Gambe 5 gambe doppie a doppia 2 10 gambe singole molle in acciaio zincato. 80 pezzi tappeto di salto. Pagine MES di alta qualità rete Di sicurezza in pagine estensibile con entrata chiudibile 10 bordi imbottiti telaio di rete Tubi in acciaio imbottiti di Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.